Ci siamo. Parte ad ottobre la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. È un censimento importante perché, come ricorderete tutti, serve a leggere il Paese, soprattutto a decifrare le caratteristiche economiche, sociali e demografiche di un Paese che cambia continuamente. Il censimento è un'operazione complessa che non si fa da solo e che pertanto ha bisogno della collaborazione delle istituzioni, dell'Istituto Nazionale di Statistica, ma naturalmente è fondamentale l'apporto dei comuni e delle prefetture ed è fondamentale l'apporto in tutti i segmenti dell'operazione, a cominciare anche dalle operazioni di comunicazione e di diffusione dei contenuti del censimento. Noi per questo rinnoviamo il nostro invito come Istituto Nazionale di Statistica a chiedere la vostra collaborazione anche nel veicolare ai messaggi di comunicazione. Lo facciamo anche con originalità perché stiamo per presentare una campagna di comunicazione che è rinnovata tanto nella veste grafica quanto in alcuni contenuti, fermo restando che il messaggio è sempre lo stesso fondamentale nella sua essenza ontologica. Partecipare al censimento è importante. A breve partirà e verrà distribuito a tutti i comuni un kit digitale di prodotti e di strumenti che consentiranno anche a tutti i comuni di fare la propria parte anche in termini di comunicazione per viralizzare messaggi sui propri canali istituzionali. E quindi io adesso colgo l'occasione per ringraziarvi fin da ora per quanti insieme a noi concorreranno anche a questa nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Grazie. 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 Grazie.